...e dei giocatori stessi, mentre in campo quasi titolari diciamo, perché sono quasi tutti quanti titolari sia da l'una che dall'altra parte, quindi ne è venuta fuori una partita tirata come giusto che sia però l'Avellino aveva qualcosa di più. Quindi intanto Rastelli si è molto arrabbiato, non so se abbiamo la possibilità con la regia curata da Giampaolo Salomone, con Francesca Zen, mentre al coordinamento c'è Stefano Candinari di vedere i gravi errori da parte del portiere della regia. Queste sono delle situazioni che capitano quando il risultato è acquisito e mancano pochissimi minuti alla fine della gara, quindi è una leggerezza da parte del portiere ma non è una cosa preoccupante. Grazie a tutti.